Abbiamo un intervento di Ettore Felisatti che ci dà un po' un quadro sul tema della valutazione, Ettore non può essere presente quindi abbiamo il video che lui ha preparato per noi. Gentili colleghi, esperti, autorità presenti in sala, vorgo a voi tutti i miei più cordiali saluti. Sono contento di essere fra di voi, sia pure a distanza, perché in questo modo ho la possibilità di poter contribuire a questa iniziativa così importante, messa in piedi in modo particolare da Valentina Grion e da Anna Serbati, alle quali vanno i miei più sinceri e sentiti ringraziamenti. Sono contento perché posso parlare di una tematica che mi sta particolarmente a cuore, che è quella della valutazione. La valutazione che è un argomento centrale nella higher education e che si inserisce nel contesto esistenziale delle persone e nelle organizzazioni. Devo constatare però che purtroppo negli Atenei italiani la valutazione è ancora una questione irrisolta. È considerata ancora soprattutto uno strumento di potere, è legata da un vissuto giudicante, è percepita come imposta dall'alto ed è foriera di atteggiamenti di difesa e di rifiuto. È sicuramente una valutazione in modo preeminente esterna. Ma forse sarebbe più opportuno dire che è una valutazione estranea all'Ateneo, perché l'Ateneo, effettivamente gli Atenei italiani non sono ancora riusciti ad appropriarsi di questo strumento per favorire circuiti di miglioramento della propria esperienza organizzativa, didattica. La valutazione in effetti è caratterizzata da un alone di burocratizzazione e di formalizzazione, sia pure non voluto, ma è così. Si lavora per il calcolo di valori, per il controllo di syllabus, per l'analisi di curricoli secondo parametri relativi a settori scientifico-disciplinarie, secondo i docenti referenti, in base ad un'analisi delle strutture di supporto, in particolare alla didattica, cioè è una valutazione che non è ancora riuscita a penetrare nelle dinamiche di miglioramento, non è ancora sostanzialmente un processo di ricerca che permette di far emergere indicazioni, conoscenze, dati per poter sviluppare a livello professionale e organizzativo le nostre istituzioni. Non è ancora capace di sviluppare una riflessione aperta rispetto agli approcci, rispetto alle funzioni, alle metodologie, agli strumenti, agli usi della valutazione. eppure nell'esperienza italiana c'è una forte esigenza che sta montando di coniugare processi nella logica collaborativa fra i livelli top-down e i livelli bottom-up, ma non siamo ancora riusciti a dare alla didattica questo valore di ricerca. Non siamo riusciti sul piano nazionale, non siamo ancora riusciti a livello di Ateneo, non ci riusciamo a livello d'aula. Sembra quasi che la valutazione non abbia ancora acquisito i caratteri di democraticità che adesso aspettano. Non siamo cioè riusciti ad entrare ancora in una cultura nuova della valutazione come processo per la conoscenza e per il miglioramento. Questo contesto, che è sicuramente in progress, sicuramente in evoluzione e dal quale ci aspettiamo buoni esiti, è questo contesto però attualmente condizionante la progettualità e la qualificazione della didattica. A mio parere occorre che focalizziamo l'attenzione su quale modello vogliamo per l'università italiana. È una scelta di campo che deve considerare la valutazione dei suoi molteplici aspetti di misurazione, cioè di dispositivi di ordine metrologico che siano efficaci, di descrizione di processi, di obiettivi, di traguardi da realizzare, di giudizi sulla base di standard di qualità, di azioni negoziali che, nella logica di Guba e Lincoln, pensino e operino attraverso i parametri del costruttivismo che elabora e costruisce la realtà e attribuisce senso, valore e significato agli eventi. Deve puntare all'analisi quindi di contesti, di processi, di prodotti, di impatti attraverso dispositivi ex-ante, in itinere, ex-post e necessita dell'adozione non pregiudiziale di alcune metodologie rispetto ad altre, ma ha bisogno dell'adozione di dimensioni quantitative e qualitative fra loro integrate e sinergiche. In sostanza la valutazione deve accogliere una prospettiva che peraltro è condivisa anche in letteratura, che individua il processo valutativo con un connotato di parametri multireferenziali, multiprospettici e multipolari, riferito sicuramente ad una pluralità di strumenti, quindi di metodologie, di modelli convergenti e che siano fondati e funzionalmente organizzati in modo scientifico perché devono offrire ad una molteplicità di attori, dati e informazioni in grado di contribuire a delineare forme di eccellenza e problematicità esistenti nei fenomeni considerati. Considerando però Rebora e Turri, dobbiamo quindi cominciare a ragionare secondo una logica di qualità statica della didattica e di qualità dinamica. Nella prima abbiamo bisogno di vagliare i risultati a livello di strutture, a livello di servizi, di progetti e abbiamo bisogno anche di identificare tutti gli aspetti che permettano di rendere conto dei processi di accountability e questo possiamo dire che è l'aspetto preeminente nell'esperienza italiana. Ma abbiamo altresì bisogno di sviluppare un'analisi sulla qualità dinamica che opera all'interno del cambiamento, abbiamo bisogno di intervenire sulla didattica in azione dove centrali sono i processi, soprattutto di rapporto fra insegnamento e apprendimento per creare sviluppo e miglioramento. Ma su queste problematiche in modo particolare relativo all'insegnamento, volendo allargare l'orizzonte verso i modelli e le pratiche di valutazione della didattica presenti nelle università europee, dobbiamo dire che la valutazione degli apprendimenti si fonda in modo preeminente sui questionari di feedback proposti agli studenti relativi all'espressione delle loro opinioni sugli insegnamenti. La ricerca EUA del 2015, Trends 2015 evidenzia un eccessivo affidamento degli Atenei verso il questionario degli studenti, che diventa il dispositivo spesso unico utilizzato dal 93% degli Atenei per valutare la qualità della didattica, le prestazioni dei docenti, mentre la valutazione degli apprendimenti degli studenti studenti è una pratica poco o quasi per nulla utilizzata. Noi a livello italiano abbiamo vissuto l'esperienza Teco negli anni passati, che ha cercato di identificare competenze sul piano generalista e sul piano disciplinare, cercando di evidenziare i risultati dell'apprendimento, di valutare i risultati dell'apprendimento. Però nell'università italiana Teco tra l'altro è un'esperienza che oggi sta per essere riconsiderata e rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi, ma dobbiamo dire che comunque nell'università odierna non è più sufficiente vagliare solo i risultati apprenditivi finali. Occorre intervenire sull'evoluzione dei processi nel momento in cui essi sono in atto avvenuto, favorendo la loro sintonizzazione a livello iniziale e in forma continua. Il new assessment, come sappiamo, distingue fra assessment for learning, cioè per l'apprendimento, da un assessment of learning, cioè dell'apprendimento. Occorre sicuramente integrare le due prospettive. abbiamo però bisogno di considerare che l'integrazione è possibile solo con un cambio di prospettiva che ponga al centro l'apprendimento dello studente in quanto protagonista, quest'ultimo, del proprio apprendimento. Nell'assessment for learning, docente e studente credono che il successo nell'apprendimento sia raggiungibile attraverso una revisione dei ruoli rispettivi. Lo studente si autovaluta e monitora i suoi progressi. docente contribuisce al conseguimento degli obiettivi, agisce sui risultati della valutazione per fare meglio le volte successive. Il docente trasforma gli standard formativi in obiettivi di apprendimento, informa gli studenti su questi obiettivi, costruisce le valutazioni, adotta i compiti in base ai risultati, offre feedback descrittivi agli studenti e li coinvolge attivamente nella valutazione. occorre a questo punto porre al centro il docente con le sue competenze, offrendo a lui la possibilità di formarsi alle pratiche didattiche e valutative, poiché il cambio che viene richiesto oggi nello sviluppo degli apprendimenti degli studenti è un cambio a 360 gradi. È un cambio che vede il docente non protagonista centrale dei processi di insegnamento e di apprendimento, ma figura di mediazione che opera affinché gli studenti, come afferma Bix, raggiungano il massimo dei livelli di apprendimento grazie al fatto che esiste un professionista in grado di predisporre ambienti idonei per l'apprendimento. Quindi occorre sicuramente cominciare ad iniziare a pensare ad una formazione del docente sulle pratiche didattiche e valutative. È questa una scelta strategica, fondamentale, che insieme all'adozione di un modello democratico e plurale, può imprimere sicuramente una nuova qualificazione ai processi di insegnamento e apprendimento. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro un proficuo lavoro. L'intervento di Ettore Ferrisatti voleva essere un po' di contestualizzazione, quindi adesso la prospettiva che lui ha presentato è un po' il ritardo culturale italiano, se vogliamo, rispetto ai temi della valutazione e questo cambio di paradigma su cui ci stiamo muovendo studenti e docenti assieme per cercare di utilizzare la valutazione per l'apprendimento. Grazie. 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 Grazie.